Yoda knows the force is strong with you, may the force be with you, you will succeed, yes! Navigli, andiamo dal mio barber preferito Francesco Cirignotta, vediamo, mi dà una sista mattina. Dopo! Ecco fatto, una leggera ritoccatina alla barba, sistematina alla barba, ma leggera leggera. Se c'è un po' di vento. Una leggera ritoccatina, come dicevo, perché a giugno si andrà a Tel Aviv in Israele a una gara di barba mondiale. Quindi deve ancora crescere. Ciao, barbuti! Grazie a tutti!